Indubbiamente è una ricorrenza molto importante, 140 anni sono molti, ma soprattutto abbiamo voluto studiare, fare studiare soprattutto i tempi nei quali la banca ha vissuto questo periodo in contesti storici diversi e lo sviluppo che ha impresso e la crescita anche delle comunità nella quale la banca è inserita. Credo che i principi sui quali i vari amministratori, dirigenti che si sono succeduti siano stati quelli di una sana politica gestionale, sana e prudente politica gestionale. Questo è stato un processo di crescita che ha sempre accompagnato lo sviluppo della banca. Ci sono stati altri banchi che magari hanno impresso sviluppi più accentuati ma poi dopo hanno raccolto dei risultati credo indubbiamente meno soddisfacenti di quanto non ne abbia raccolto la Banca Popolare di Bergamo. Un apporto significativo da diversi anni è anche il suo presidente alla Banca Popolare. Io sono in banca ormai da moltissimi anni, sono entrato grazie alla buonevolenza della presidente Suardi e del direttore di allora Bertacchi nel lontano 1955, sono presidente del primo luglio dell'85, per cui da parecchi anni. Ho vissuto un periodo molto lungo, credo di avere imparato anche parecchio dai miei predecessori. Ho cercato di svolgere il mio ruolo evidentemente nel limite delle mie capacità ma con il massimo dell'impegno. Qual è il futuro per questa banca? Il modello che noi ci siamo dati è quello di un modello federale fortemente integrato, per cui la Banca Popolare di Bergamo appartiene a un gruppo bancario, Unione di Banche Italiane. La prerogativa di questa federazione di banche è quella di mantenere le singole banche fortemente ancorate al territorio di appartenenza e quindi di dare il sostegno diretto all'economia che viene servita. Io credo che in futuro la banca debba continuare a mantenere questo presidio forte nel territorio e a dare il sostegno necessario allo sviluppo dell'economia.